Andiamo avanti, la nostra fantastica e unica segretaria Cristiana Rosari in attesa del signor Vitali signor vicepresidente si accomodi Cristiana, abbiamo il nostro tesoriere Anna Marolo la nostra benissima consigliera Alice Barbieri titolare dell'affisso double face a premetto il nostro presidente titolare dell'affisso Buleganti e il signor vicepresidente l'affisso che io non so dire di un'autobulcana in Africa ma non ve lo chiedete abbiamo un altro consigliere, il signor Edmondo Maciccone un altro consigliere il signor Massimiliano Stella e poi c'è la commissione tecnica che fa sempre parte il signor Valerio Vitali e il dottor Gino Pinotti che sta operando il campo medico per i cani per poter guardare le analisi signorina Monica Ciuscoli, si prega cane, grazie poi abbiamo la commissione forum con la signora Paola Riccatti e la signora Beatrice Benastei prego signora poi abbiamo una cosa molto importante abbiamo una cosa molto bella la commissione Rescue che si occupa di aiutare e di salvare e di venire in soccorso ai cani bisognosi ai cani che non hanno più padrone oppure ai cani che forse a volte non li vogliono più per cui è una cosa molto importante nel nostro circolo e nel nostro club del bulldog francese il salvare e sistemare in una casa nuova dei cani che hanno bisogno e di questo se ne occupa la signora Veronica Guerra io direi che in questa fantastica giornata possiamo incominciare a iniziare la parte tecnica dei giudizi con il giudice di un noto allevatore con l'affisso Belit del Bombardier che viene dall'Olanda e il signor Venus e la signora Sabina la sua consorte che hanno iniziato la loro attività di allevamento dal 1990 con la loro nuova casa ma come inizio non hanno avuto un bulldog francese ma un bull terrier standard che in primo anno gli ha fatto un po' disperare non è vero? e hanno iniziato con il bulldog comprando due femmine madame Safran van Samperey e un'altra femmina che nota con il nome di la prima femmina come si chiamava? Dasha Nuska Dasha Nuska con Samperey e loro hanno conseguito dei risultati importantissimi in un paese difficile da allevare con una grande concorrenza come l'Olanda dove lo standard è già fissato perfettamente da più di 40 anni per cui con questo noto allevamento oggi il signor Venus è venuto in Italia per portare il loro contributo a giudicare, amare e a insegnare a accordare i propri bulldog francesi e le siamo grati di averlo nel RIF un applauso al nostro giudice presto il signor Venus che vorrà diventare la rivoluzione